Buonasera. Per la festa di calendimaggio del 1274 i portinari avevano invitato gli alighieri a pranzo da loro. Per gli alighieri era un grande onore. I portinari erano dei buoni conoscenti, non propriamente degli amici. Troppo grande era il divario tra una famiglia di banchieri, soci niente di meno che della compagnia di vieri dei cerchi, e quella di un piccolo trafficante. La mattina, al risveglio, aveva trovato sul fuoco del camino la pentola grande, piena d'acqua, nel centro della cucina la tinozza del bucato e dei bagni. Lo avevano immerso e sgurato ben bene. Non si era lamentato più che tanto. Anche lui era eccitato dalla prospettiva della festa. Alighiero e la sua giovane moglie non lo davano a vedere, ma l'apa non faceva che entrare e uscire di casa. Cercava consigli dalle vicine sul nastro più appropriato. Mentre la campana della badia batteva la sesta, un piccolo corteo composto da suo padre, dall'apa, con in braccio franceschino di pochi mesi, e da sua sorella Tana, percorreva le poche decine di metri che separavano la loro porta dal portone degli illustri ospiti. Lui, siccome dai portinari era di casa, si sentiva autorizzato a fare da battistrada. Mentre l'apa e Alighiero camminavano con aria compassata, Tana non si conteneva. Saltava e cinguettava come una bambina, tanto che il padre la rimproverò richiamandola alla compostezza. Andava capita, povera Tana. Di occasione come quelle a lei ne capitavano proprio poche. Da quando era stata promessa all'Apor i comanni, viveva segregata fra le mure di casa. Nel cortile, dove anche il giorno prima lui e Manetto si erano inseguiti, spade in mano, erano imbandite due grandi tavole. Sulle tovaglie di lino lucicavano bicchieri di cristallo. A una tavola avevano fatto sedere gli alighieri in compagnia di sconosciuti che suo padre trattava amichevolmente. I portinari avevano preso posto all'altra, attorniate dalle persone più importanti. Lui sedeva irrequieto, smanioso di fare comunella con Manetto, che gli faceva le boccacce dalla tavolata dei suoi quando, dal fondo del cortile, una giovinetta cominciò ad avanzare verso di loro. Indossava un vestito rosso tenuto in vita da una cintura dorata. Non la riconobbe. Del resto, della mocciosa piagnucolante, aveva perso perfino il ricordo. Com'era, bella, aggraziata, flessuosa. Per anni, in seguito, aveva cercato di recuperare nella memoria qualche immagine di quello che, a ragione, poteva essere considerato il loro primo incontro. Davanti agli occhi gli tornavano sempre e soltanto le valmpate rosse di qualcosa in movimento solcata a intermittenza da un paluginio giallastro. Il fatto è che, proprio su quel rosso, senza neppure percepire se fosse un drappo, un cielo al tramonto, una pittura, una allucinazione. Aveva tenuto gli occhi fissi durante l'attacco del suo male. Siccome in famiglia era proibito pronunciare il nome, fin da bambino si era abituato a chiamarlo il suo male. Non ricordava quando era cominciato, di sicuro già nella prima infanzia. Più grandicello, il giorno di quel primo incontro stava per compiere nove anni, le crisi si erano infittite. Si presentavano sempre allo stesso modo, dapprima un tremito leggero alle mani, che presto si propagava tutto il corpo, sempre più forte, finché convulsioni incontrollabili non lo squassavano da capo a piedi. Pochi momenti ancora lui stramazzava a terra, privo di sensi, come colpito da un fulmine. Si riprendeva lentamente, non tremava più, ma dentro gli restava una sensazione di paura, una cappa d'angoscia che un po' alla volta si sfaldava in una profonda tristezza. Se l'attacco lo colpiva fuori di casa, o se c'erano estranei, i suoi parenti lo sollevavano di peso e lo portavano di corsa in un luogo chiuso, al riparo dagli sguardi degli altri. Di quando era capitato, non parlavano con nessuno e anche a lui ordinavano di non farne parola. Si vergognavano. Quel figlio era indemoniato. Li aveva uditi sussurrare che bisognava fare attenzione, che poteva essere contagioso, lo terrorizzava il pensiero che prima o poi lo avrebbero rinchiuso. Per fortuna c'era la sua Tana. Della mamma aveva solo pochi e sfocati ricordi. Tana era la sua vera mamma. Lei sola riusciva a strappargli un sorriso quando ancora giaceva a terra prostrato. Si sedeva accanto a lui, gli accarezzava i capelli e chiedeva se durante il sonno, così Tana chiamava il suo stato d'incoscienza, avesse sognato. E lui rispondeva che sì, che aveva avuto tante strane visioni. La giovinetta vestita di Rosso si stava dirigendo verso il suo tavolo e lui cominciò a percepire quel tremito. Si sarebbe votato a una santa, una fata, perfino a una strega per poter scomparire anche per sempre. Tutto purché non succedesse ciò che stava per succedere. Qualche istante e quelle persone di riguardo lo avrebbero visto rotolarsi sulle pietre, sbavare e agitare furioso, gambe, braccia. Anche suo padre si era accorto della crisi imminente. Lo stava fissando, immobile, con occhi torvi. Sentì la mano di Tana afferrare la sua destra e stringerla forte. Intanto implorava in silenzio, Dio mio, no, non qui. Non girò gli occhi nemmeno su Tana. guardava dritto davanti a sé, concentrato su quel rosso che si avvicinava. Si sforzò di respirare profondamente, di tenere un ritmo regolare. Svuotò la mente da ogni pensiero e quando Tana allentò la stretta della mano capì che il peggio era passato. L'onore della famiglia era salvo. Buonasera, dalle parole così ben scandite da Andrea Ferrari abbiamo avuto un approccio immediato e diretto con il libro di cui si parla stasera. Come donna innamorata, l'ultimo romanzo di Marco Sant'Agata, appena uscito da Guanda, un libro già del 2015. È un romanzo, Sant'Agata è anche un grande saggista, un professore dell'Università di Pisa, il maggiore esperto mondiale di Petrarca e adesso è sulla strada anche per diventarlo di Dante. E proprio a Dante è dedicato il suo romanzo, Come donna innamorata, che quindi è un romanzo storico e che quindi entra in un filone molto felice, molto vivo della nostra tradizione narrativa, che comincia con un romanzo storico che sono i Promessi Sposi e che molti altri romanzi storici di grande qualità ha avuto al suo interno, dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, al nome della Rosa, di Eco, ai romanzi dei Wuming, per arrivare più vicini a noi. Per parlare di questo romanzo, che è anche un romanzo storico, ma è poi, come credo capiremo insieme, un romanzo anche molto attuale, oltre all'autore Marco Sant'Agata abbiamo un ospite d'eccezione, un caro amico, un grande scrittore della contemporaneità, perché ha abbandonato da qualche tempo la sua vita passata di cantautore ed è a pieno titolo uno scrittore, Francesco Guccini e invito Francesco Guccini e Marco Sant'Agata a raggiungermi. Allora Francesco, tocca a te il primo intervento su questo romanzo. Io ho detto soltanto alcune battute, è un romanzo diviso in due parti, che ha due coprotagonisti, accanto alla voce narrante e senziente di Dante Alighieri, che è il protagonista, una donna, l'oggetto d'amore della sua poesia, Bice o Beatrice Portinari. Bice Portinari all'anagrafe, diciamo così, ma Beatrice nella storia poetica di Dante, nel compimento di questa storia poetica dal paradiso terrestre al paradiso, e Guido, cioè Guido Cavalcanti, l'alter ego poetico, l'amico un po' più anziano, di una mezza generazione più anziano, superato dall'allievo amico Dante Alighieri. Introduco il fatto che in fondo tu ed io siamo autorizzati a parlare di Dante, non tanto dalle nostre attività, soprattutto al cospetto di un dantista come Marco Sant'Agata, così predominanti, ma dal fatto che condividiamo un grande maestro che con Dante ha avuto invece molto a che fare, che è Ezio Raimondi. La prima domanda che mi viene da fare è come hai letto questo romanzo, come hai sentito la presenza di Dante che è così forte e, ripeto, anche così attuale, almeno per come l'ho letto io in questo come donna innamorata. L'ho letto con grande curiosità, questo è il secondo romanzo che ho letto con Dante come protagonista, perché esiste prima di questo romanzo un giallo di cui non ricordo nell'autore, è uscito per... Ah sì? Lo conoscevi, vedi? Lo conoscevano anche tu? Lo conoscevano tutti, insomma. E dove Dante da priore risolve un caso giallo, eccetera, ma è tutta un'altra cosa ovviamente. Dico con grande curiosità perché poi avevo già letto la biografia, la bella biografia che ha scritto Marco Sant'Agata su Dante Alighieri. Fra l'altro scoprendo una cosa che ignoravo ai tempi della scuola e dell'università, cioè che Dante soffrisse di epilessia, insomma, lo si dice. Quando lui temeva di cadere in convulsioni, ogni qualvolta vedeva Bice o Bertrice e temeva queste venite. Ma al di là di questo, insomma, mi ha un po' incuriosito e stupito anche perché Dante lo vedo come una figura in questo romanzo, non questo poeta che tutti abbiamo studiato, letto, eccetera, ma è un po' una figura strana, ambigua, un po' invidioso dei ricchi banchieri, ma dei nobili soprattutto. E quando accompagnato da Lapo Gianni, altro poeta del dolce stile, vanno alla notizia che Bertrice stava morendo e poi la trova già morta. La reazione di Dante non è tanto quella del dolore della scomparsa di questa donna, quanto dal fatto che si trova a dover dire a se stesso ma cosa scrivo d'orino avanti che lei è morta e non ha più ragione di essere così, di scrivere queste poesie in onore di questa donna amata, eccetera. Quindi al di là dell'amore che poteva avere o meno per questa donna, si dispiace di non poter più scrivere queste poesie per Bertrice, insomma. Questa è una domanda che ti faccio, ecco. Hai letto benissimo, è così. Sia chiaro, non stiamo parlando di Dante storico, stiamo parlando del personaggio di questo libro. È proprio così, muore Beatrice e lui si angoscia perché pensa, ho conquistato una cifra poetica nuova che mi ha reso anche famoso a Firenze e adesso come potrò andare avanti? L'egoismo del creatore, l'egoismo di chi è convinto dei suoi mezzi, delle sue capacità, di fare qualcosa di nuovo e teme di non riuscire che un elemento esterno possa bloccarlo. L'egoismo del creatore che si mescola naturalmente con altri sentimenti, sempre nel personaggio. insomma, non è solo con la morte di Beatrice che ci appare così, questo Dante, questo mio Dante, cioè in preda anche all'invidia, in preda alla gelosia, in preda a sentimenti umani, sentimenti che molti possono provare, e che lì sono però in qualche modo esaltati dal fatto che lui ha questa meta che si prefigge, meta che può essere quella del successo letterario ma che poi nel corso degli anni si rivela molto più ambiziosa. Alla fine diventa un profeta questo Dante, un profeta che si autogiustifica, finisce per giustificare tutte le sue azioni perché fino al punto perché si sente privilegiato, investito, scelto da una volontà superiore. Il fatto è che potrà anche sembrare come dire un personaggio forse anche non simpatico per tutti quelli, ma però ha ragione. Non fa una bella figura però. Non fa una bella figura ma la sua opera una bella figura la fa. Insomma, cosa voglio dire? Non è che se uno scrive un grande capolavoro la persona che lo scrive deve essere lui stesso un grande capolavoro. È un po' un'immagine che noi ci portiamo dietro, un po' stereotipata. Noi costruiamo la personalità degli autori, soprattutto del passato, sulla base dei libri che hanno scritto. Proiettiamo sulla vita la letteratura. Io qui cerco di fare il contrario. Come una grande letteratura può nascere da una vita di per sé, come dire, di per sé piena di problemi, difetti, atti di generosità ma anche di viltà e così via. Anche la figura di Guido Cavalcanti, anche qui, il fatto è che lo chiama Dantino. Si sembra che lo prende in giro, che lo sottovaluti. È una figura anche questa un po' supponente nei confronti di Dante. Si sente superiore e per casato, perché è ricco, è nobile. Chiamarlo Dantino può dire, oh, vedi qua ragazzo. Dante, dicevo prima, l'ha riconosciuto come miglior fabbro, se non sbaglio, no? Ma mi sembra proprio una figura un po' scostante, un po'. Vabbè che poi Dante lo manda in esilio, ma questo è un altro discorso. Però ce l'aveva con Dante alla fine. Non vede bene Dante, cioè non lo prende più come amico, eccetera. È proprio a supponenza nei confronti di Dante e Guido Cavalcanti. C'è una grande amicizia che dura tutta la vita di Dante, perché Cavalcanti muore molto prima. Una grande amicizia che è fatta di un forte legame sentimentale che si rovescia in una forma anche di odio reciproco. Ma è un'amicizia che nasce squilibrata fin dall'inizio, perché c'è un forte squilibrio sociale fra i due, c'è un forte squilibrio di età fra i due e che ha un problema di fondo, che tutti e due sono poeti e ciascuno dei due crede di essere superiore all'altro. Quindi la rivalità è poi il segno. Ma questa rivalità però non arriva fino a fare dimenticare i legami, a recidere i legami affettivi. Li può recidere nella vita, a un certo punto non si parleranno più. Dante sembra quasi vendicarsi mandando in esilio Guido Cavalcanti, ma poi nella memoria tutto ciò resta e si ricompone quando, sempre nel libro sia chiaro, quando Dante scrive il Paradiso, il finale del Purgatorio, e lo scrive con la memoria dei versi del suo amico morto da tanti anni, Guido Cavalcanti. Anche qui la grande letteratura è una forma, nasce di ispirazione, chiamiamola come vogliamo, porta con sé, nasce da un terreno, che è un terreno pieno di scorie, che è un terreno, come dire, in cui accanto ai fiori lo sterco ha la sua presenza e miracolosamente, anche da sentimenti di amore e odio, nasce un prodotto letterario che poi fa l'effetto completamente opposto, di pacificazione, di catarsi, che non significa che poi l'autore sia effettivamente pacificato, oppure anche qui, perché finisce con Dante che riafferma la sua superiorità sull'amico Guido di cui rimpiange la perdita. Ma questo, chiamarlo Dantino, è una tua invenzione, penso. È una mia invenzione. È già molto che non lo chiami D'Anticchio, perché insomma, Dantino è Dantino, sembra proprio il fratello. Io avevo, quando ero piccolo, c'avevo un lontano parente, di cui avevo perso persino il ricordo, che veniva chiamato Dantino. Credo che mi sia tornato in mente questo. Dantino è sì, affettuoso, però c'è anche questa componente di superiorità. Sì, sembra il fratello maggiore che con supponenza. Però credo che lo stimolo per il Dantino sia venuto dalla mia biografia, non da quella di Dante. Un'altra domanda. Gemma, la moglie di Dante, anche lì è una strana figura, perché non si sa bene se all'inizio sia geloso o meno di Bice o Beatrice, però tratta in un certo modo Dante come un po' un fallito, tutto sommato. Lo tratta all'inizio. Si, mal sopportato in casa, questo che non porta dovizia né di vesti, né di cibo, né di denaro. Però alla fine cambia e diventa una partigiana di Dante nel momento in cui Dante viene a sua volta cacciato. Deve andarsene con i figli da Firenze, anche lei lo segue, eccetera. Perché questo cambiamento fra la gemma delle prime pagine e la gemma delle ultime pagine? Beh, intanto diciamo una cosa, il Dante che conosciamo, il Dante che si studia a scuola, è un Dante senza famiglia. Invece ha avuto tre figli, probabilmente quattro, ma tre sicuri e un quarto molto probabile. Ed è invece la famiglia non entra mai nel nostro orizzonte quando parliamo di Dante. E invece credo che, e parlo del Dante storico, la famiglia abbia avuto un peso nella sua vita. Se mi permetti, allora c'è un proverbio, credo marchigiano, che dice quando non si sa cosa fare si va a letto con la propria moglie, insomma. E quindi così è che Dante l'ha fatto, a grosso modo, no? Ma in questo mio libro direi che la moglie ci fa una bella figura. In realtà, forse a Dante, mio personaggio, non è mai interessato, fino in fondo, l'idea di andare a letto con Beatrice. Si muove su un'altra sfera. L'unica scena d'amore del libro è con la moglie. Un po' perché avevo una famiglia e mi interessava che il mio personaggio agisse all'interno di un ambiente familiare, che scrivesse poesie sublimi su un tavolo di cucina, disturbato dalla moglie che voleva preparare la cena. Credo che nella realtà sia andato effettivamente così. Io me lo sono inventato, ma penso che effettivamente le cose fossero andate in quel modo. Quindi mi interessava questa cosa. Gemma poi è un rapporto contrastato. Gemma è socialmente superiore a Dante, appartiene a una grande famiglia, i donati, di grande nobiltà. Dante veniva da una famiglia mediocre. Dante era stato nobilitato, in un certo senso, da questo matrimonio. Quindi c'è una forma di rispetto che poi nel mio libro si tramuta anche in una forma di amore. E viceversa, la Donati, che sembra non capire, e addirittura sembra in qualche aspetto anche gelosa, di questa attività di poeta del marito, del marito che lascia la famiglia nella miseria per inseguire i suoi sogni di gloria, in realtà, un po' alla volta, si dimostra invece partecipe, complice. Quindi, insomma, ho messo insieme una coppia che sembra non intendersi e che invece alla fine si intende. E il grande Dante demanda la conduzione della famiglia alla moglie. A un certo punto dice che aveva capito che era lei il capo famiglia. Avrei fatto delle ricerche, anche da un punto di vista storico, non so, penso di sì, su questa vita politica complicatissima del periodo, non ci si capisce assolutamente niente. A parte il fatto che, dico un'altra cosa, li citi quasi tutti i poeti del dolce stile, Lapo Gianni va assieme a Dante a vedere se Beatrice è ancora vivo, sta morendo, eccetera. Cino da Pistoia è nominato, e così, se non sbaglio, Gianni Alfani è nominato. Dino Frescobaldi invece non è nominato, vabbè, Guidizelli era Bologna. Dino Frescobaldi non c'è nel periodo. Ma a parte il fatto che non si capisce bene la storia dei bianchi e dei neri, dei guelfi, bianchi e dei guelfi neri, eccetera. Dante è un guelfo, se non sbaglio, ovviamente, ma bianco. Cino da Pistoia era bianco o nero? Era nero. Era nero. Era nero, ma partigiano dell'impero. Mentre i guelfi neri erano schierati in maniera assai più netta dei guelfi bianchi con la parte della chiesa, col papa, lui era un nero, ma partigiano dell'impero, fino a che la parabola dell'imperatore non declina, dell'impero, meglio, con la morte improvvisa dell'imperatore, e a quel punto Cino da Pistoia pensa, si fa molto più prudente, perché vuole fare carriera universitaria e la fa. Come giuriconsulto, come uomo di legge, insomma. Come uomo di legge, diventa uno dei più grandi giuristi della sua epoca. Fra l'altro, ho fatto qualche ricerca anch'io, e ho trovato una cosa curiosa che non sapevo e non so neanche se sia vera, perché erano chiamati bianchi e neri. La storia è complicata, ma c'è la spiegazione, si sa. Non nasce a Firenze la cosa, ma a Pistoia. A Pistoia. C'erano due partiti guelfi, perché la storia di questo periodo storico è molto interessante. Ci sono i partiti politici, uno dei due partiti ha il sopravvento. In Toscana, diciamo, i guelfi hanno il sopravvento sui ghibellini e cacciano i ghibellini. Dopodiché, il partito vincitore si divide a sua volta in due correnti e caccia una delle due. Quindi, a Firenze, i neri cacciano i bianchi. Restano solo i neri che si dividono a loro volta in due partiti e anche lì va a finire con una sorta di guerra civile. Corso Donati, che era il capo del partito nero, viene ucciso dalla fazione nera che ha avuto il sopravvento. Cioè, è tutto per gemmazione dello stesso partito che si divide, si divide e si divide. Questo ricorda qualcosa dell'Italia attuale. Non fa niente. E non solo questo, perché poi questi processi di divisione interna ai partiti, da che cosa erano determinati? determinati in maniera evidente, esplicita e dichiarata da interessi economici divergenti. La politica fiorentina e in genere dei comuni italiani di quel periodo era una politica in mano alle banche, alla finanza internazionale e al commercio. dobbiamo immaginare che anche una Firenze molto, completamente quasi diversa dalla Firenze attuale. Insomma, certi monumenti dovranno ancora essere costruiti. Quindi una Firenze di torri, di casupole, di case. Se uno oggi vuole fare una passeggiata in quella zona di Firenze che è fra il Duomo e Palazzo Vecchio, ecco, lì ha un'idea di che cos'era perché il tessuto urbanistico medievale si è conservato. Di cos'era la Firenze da allora? Una Firenze di stradine, di vicoli, di torri, di case di pietra e di legno dove non c'erano palazzi, dove non c'erano grandi chiese perché ai fiorentini di quel periodo interessava l'accumulazione. Non spendevano soldi per erigere monumenti, per erigere chiese e tanto meno per non non investivano nella formazione e nella cultura. Era una città profondamente incolta. La storia dei bianchi e dei neri che so io, puoi confermarmi o meno, è che parte, come dicevi, da Pistoia, dei cancellieri, eccetera, Pistoia, i cancellieri panciatichi. I cancellieri erano divisi fra i figli di primo letto e i figli di secondo letto. quindi i figli di primo letto essendo più vecchi di quelli di secondo letto avevano i capelli bianchi e quindi per quello erano i bianchi mentre i figli di secondo letto più giovani avevano i capelli neri ed erano i neri e nasce così secondo... Questa mi sembra una cronaca papanica. No, no, l'ho letto io, l'ho letto da qualche parte. In realtà è molto più semplice, sai. Allora le grandi compagnie bancarie avevano il problema della crescita. A un certo punto tendevano sempre a inglobare altre compagnie e diventavano di dimensioni troppo grandi per una corretta gestione e allora in genere si dividevano anche loro in due in due compagnie e non è che cambiassero nome semplicemente una si chiamava Cerchi A e l'altra si chiamava Cerchi B oppure Donati A Donati B e la politica i partiti politici hanno preso la dominazione da questa divisione interna al mondo finanziario A e B non avevano una grande fantasia. Neri e bianchi allora escludi il colore dei capelli dei figli di Bolle. Sì, sì, sì. È bella però. È che i i neri di Pistoia che venivano chiamati neri a Pistoia nemici dei bianchi di Pistoia non credo che venisse dai colori dei capelli la denominazione però da dove venisse di preciso non te lo so dire ma non dei colori dei capelli. A una volta mandati in esilio da Pistoia andarono a Firenze in gran parte e siccome erano amici di una certa fassione politica di Firenze quella fassione cominciò a chiamarsi nera e all'opposto l'altra prese il nome di Bianca. I donati se non sbaglio. Bene, vai tu Alberto. No, un'ultima questione prima di sentire ancora magari un pezzo del libro di Andrea Ferrari. Come donna innamorata è un romanzo appena uscito ma già fortunato. Ricordo che è un concorrente anzi un candidato molto serio a entrare nella cinquina dello strega perché è un libro effettivamente di lettura molto veloce ma appunto di profondità sia storica che umana molto altrettanto considerevole. Tre anni fa avevi pubblicato da Mondadori questo corposo volume nella collana delle scie intitolato Dante il romanzo della sua vita dove scateni il Sant'Agata ricercatore docente ricordo anche che hai la direzione dell'opera omnia di Dante nei meridiani Mondadori ed è la più bella biografia che si potesse scrivere con i documenti a disposizione io ricordo a tutti che di Dante non abbiamo nemmeno una lista della spesa autografa è stato cancellato tutto non c'è nessuna sua traccia scritta di suo pugno e però con i documenti a disposizione hai ricostruito la sua vita come nessuno aveva fatto prima a distanza di tre anni esci con questo come donna innamorata come ha detto giustamente Francesco lì vai nei meandri profondi non tanto della psicologia perché per fortuna non è un romanzo psicologico in cui cerchi di ricalcare o di reinventare una fantomatica psicologia di Dante ma vai proprio dentro il suo campo percettivo profondo e dentro il suo bisogno di scrivere tenendo proprio conto di questa contraddizione fra una serie di atteggiamenti a volte anche negativi dei comportamenti non propriamente limpidi e questa attenzione alla poesia è bellissima l'immagine di quando lui capisce con la morte di Beatrice che l'amore si gioca su un altro piano e tu la rendi in modo molto concreto si direbbe con una sorta di correlativo oggettivo con questa nube bianca ascendente in cui c'è proprio questa dimensione dell'ascesa di Beatrice nel cielo però della poesia non in un cielo astratto ecco raccontaci un po' perché è la prima volta che tu avvicini in modo così serrato la tua attività di professore di ricercatore di frequentatore di archivi e di carte rare preziose antiche e la tua attività di narratore hai avuto bisogno di scrivere come donna innamorata a complemento della biografia di Dante mancava la parte della spinta poetica profonda nella biografia come è accaduto in te questo avere completato un libro con l'altro domanda seria forse non è la prima volta ma è la seconda perché mi era capitato qualcosa di analogo con Petrarca ho studiato Petrarca tanti anni dopodiché Petrarca è diventato protagonista di un mio racconto con Dante ci sono ricascato e allora mi sono chiesto ma come mai ci sono ricascato cercato anch'io di capire credo che detta molto brevemente diciamo a me da ormai da parecchi anni a questa parte il mio lavoro chiamiamolo di critico letterario è caratterizzato da un interesse che non è banalmente né un interesse di tipo biografico fine a se stesso né un interesse per l'opera sganciata dalla biografia mi interessa mi interessa sempre più quella zona intermedia difficilissima da cogliere da definire da descrivere quel quid quella zona intermedia da cui germinano le idee da cui germinano le invenzioni da cui germinano le opere letterarie quindi non non solo ovviamente l'incrocio vita letteratura ma qualcosa di più inafferrabile e questa cosa inafferrabile ti porta a formulare delle ipotesi delle idee che non puoi effettivamente scrivere in un libro di saggistica che si pretende che vuole essere che si presenta al lettore come fondato per lo meno che deve avere l'aspetto e forse un'operazione di tipo di inventivo fantastico può secondo me venire soddisfare questo mio desiderio di andare a esplorare questo rapporto segreto io penso anche che forse possa anche aiutare in qualche modo a leggere le opere di Petrarca o di Dante cioè proprio perché sono gratuite svincolate da un patto di verità con i lettori e quindi il lettore però può trovare delle suggestioni e in ogni caso è un bisogno mio ecco che nasce dal mio mestiere e da come tendo a interpretare il mio mestiere ma come spieghi il salto fra le poesie d'amore diciamo dolce stile eccetera alla commedia che è un bel salto che che meccanismo c'è in Dante a fargli fare questo tipo di passaggio questo tipo di salto come l'ho chiamato bellissima domanda sì è quello un po' è quello che cerco a cui cerco di rispondere con questo romanzo nel senso io penso che quel processo di autogiustificazione che Dante mette a volte anche un po' meschino tu lo hai messo in luce che il mio personaggio mette in atto nella sua giovinezza col passare del tempo diventi un processo di autoassoluzione ma che si carica di una forte tensione di una forte tensione per l'appunto di tipo profetico di tipo visionario un po' la tensione se vogliamo anche del matto ci sono aspetti di questo tipo anche nella personalità di Dante e che però l'idea della diversità legata io qui lo leggo e tu lo ricordavi anche all'epilessia l'idea della diversità che all'inizio Dante mio personaggio ma direi anche il Dante storico vive come un marchio di esclusione o comunque come un fenomeno che lo mette a parte che lo tiene in disparte nel corso del tempo lui la rovescia la rovescia come invece un marchio del tutto positivo l'idea di essere prescelto proprio perché è diverso e questo meccanismo psicologico può spiegare come da un lato egli giustifichi quando era giovane un certo tipo di poesia ma andando avanti come egli giustifichi una poesia profetico visionaria come quella della commedia possiamo sentire sì volevo solo aggiungere un attimo una cosa perché Francesco ha toccato questo problema sia nella prima domanda che in questa che sono veramente molto appropriate lo tematizzo ancora più direttamente rappresenti Dante nei cinque anni dopo che ha scritto La vita nova 1295 1300 quando diventa priore e il libro ci ha anche insegnato che il nostro giallista sbagliava fargli fare l'investigatore da priore perché i priori stavano in carica due mesi ed erano confinati in una casa da cui praticamente non uscivano quindi non poteva andare nelle osterie a fare le indagini ma al di là di questo in questi cinque anni Dante e riprendo un tema introdotto da Francesco all'inizio non fa una gran figura sul piano umano quando si dà la politica dalla parte dei cerchi contro i donati diventa un po' così un personaggio a disposizione della parte dei cerchi molto piatto da questo punto di vista finché non viene eletto appunto priore sono gli anni in cui concepisce la commedia tu non lo dici direttamente lo fai arguire alla fine in un gioco molto elegante e raffinato di flashback quando nella seconda parte gran parte della seconda parte è ambientata nel 1314 quando sta finendo il purgatorio ed è in lunigiana da Moroello Malaspina e allora ricorda anche il concepimento dell'opera forse si può anche capire che lui abbia avuto bisogno di mettersi a posto con questa attività quasi meschina da politico per concepire davvero il disegno il progetto che è qualcosa di enorme in ogni caso per le forze umane e anche per quelle poetiche della commedia brevemente Dante è stato un politico di seconda terza fila un figurante della politica e come tutti i politici di allora non aveva non godeva di autonomia lì non c'era la disciplina di partito ma c'era la disciplina dei soldi e quindi si sapeva chi comandava e gli altri dovevano obbedire e il Dante questo ha fatto come uomo politico schierandosi con una parte assumendosi responsabilità credo avallando decisioni che probabilmente non condivideva e ha pagato e ha pagato per questo quindi un politico che si è lasciato strumentalizzare e che non poteva fare diversamente uno che si chiamava Dante Alighieri a Firenze non aveva una sua autonomia Guido Cavalcanti aveva la sua autonomia perché Guido Cavalcanti era proprietario di quasi tutto il centro della città quindi se lo poteva se lo poteva permettere la commedia io ne accenno nel libro c'è in questo romanzo ma qui si va proprio nella come dire nella biografia vera di Dante forse quando leggiamo l'inferno non facciamo sufficiente attenzione ma una cosa che gli studi hanno messo in rilievo negli ultimi tempi quanto di strumentale proprio strumentale c'è nell'inferno cioè un capolavoro come la commedia può nascere anche da questo da cosa Dante ha chiesto di essere amnistiato ha tradito i suoi ha chiesto di essere amnistiato e per cercare di ottenere questo perdono dai vincitori di Firenze vuole presentarsi come un guelfo integrale e fare dimenticare che fino a pochi mesi prima combatteva contro Firenze in alleanza con i Ghibellini con i grandi nemici della città l'inferno è anche questo è il tentativo di Dante di presentarsi in questo modo ai fiorentini mandando all'inferno Federico II mettendosi a questionare con l'icona del ghibellianismo fiorentino Farinata degli Uberti cercando di infamare un grande capo ghibellino come Guido da Montefeltro ed esaltando dall'altra parte i campioni del guelfismo come Brunetto Latini o addirittura un martire del guelfismo come il Ugolino cioè motivazioni proprio di tipo e intendiamoci nel fare questo questo è il bello Dante non aveva cambiato idea aveva già scritto trattati in cui parlava della centralità dell'impero non cambia idea si censura e scrive cose in cui non crede proprio perché vuole ottenere vuole rientrare in città eppure questa cosa scritta con queste intenzioni è niente meno che l'inferno poi cambierà ancora perché cambia continuamente ma la prima cantica la possiamo chiamare una cantica guelfa scritta da un esiliato che vuole rientrare in Firenze e vuole presentare le sue patenti di guelfismo Andrea Ferrari ascoltiamo una pagina aveva ripreso a ridere come si può ridere di un bambino credulone lui no non rideva era rimasto di sasso un tuono gli era esploso in testa non aveva perso i sensi ma il rimbombo aveva cancellato ogni cosa intorno a lui il baleno di quel fulmine in un attimo aveva illuminato tutta la sua vita un istante di luce e ogni cosa aveva trovato miracolosamente posto e significato aveva salutato Tana bruscamente senza curarsi delle sue occhiate perplesse e si era rifugiato nella chiesa di San Martino le messe erano finite e sui banchi non c'era più nessuno seduto con la testa fra le mani egli pensava adesso aveva la prova le crisi non erano causali lui lo aveva sempre intuito e adesso ne aveva la prova sì non coincidenze segni non dipendevano né da lui né da bice predestinate l'uno e l'altra fin dalla nascita era scritto nelle cose ma lui non aveva saputo leggere è amore e se no cos'è quante volte si era fatto queste domande più se lo era chiesto e più si era perduto nelle tenebre aveva cercato risposte dentro di sé mentre avrebbe dovuto aprire gli occhi sui segnali oggettivi palpabili che gli venivano dati a profusione e così era arrivato perfino a ipotizzare che la sua non fosse che un'infatuazione mondana il giovane sprovveduto sedotto dai sorrisi della gran dama superbia la sua cecità era figlia della superbia era troppo colto lui troppo intelligente troppo sottile per perdersi dietro a segnali troppo semplici Dio parla ai bambini alle donnette ai poveri di spirito e gliene aveva dette di parole gliene aveva mandati di segni come un maestro di scuola che non si arrende davanti all'alunno zuccone aveva usato ora una lingua ora un'altra ora l'alfabeto del corpo ora quello dei simboli non capisci il senso dell'epilessia allora concentrati sul nove fai attenzione al calendario vedrai non è difficile adesso solo adesso aveva compreso che non era difficile anzi che era più di un'evidenza un'evidenza assoluta a nove anni aveva incontrato Bice nella casa del padre a diciotto si erano salutati per la strada lui era di nove mesi quando Bice era nata che il nove fosse il loro numero lo aveva intuito da tempo ma come aveva fatto a non pensare che quel numero è sacro in sé contiene per tre volte la trinità e anch'esso un sigillo di predestinazione c'era voluto il racconto di Tana perché il filosofo arrivasse a una verità tanto limpida e così profonda e la nuvola la nuvola bianca che saliva illuminata dalla luna non aver udito le parole del Signore lo tormentava ancora di più del non aver compreso la vera natura di Bice si era incaponito sui versi ecco perché non aveva capito e così aveva offeso anche quella santa l'aveva usata ne aveva fatto un pretesto per scrivere di un amore che con lei non aveva niente a che vedere fantasie immaginazioni escogitate per stupire e strappare gli applausi Guido aveva ragione lui dell'amore non sapeva proprio niente a sua discolpa avrebbe potuto solamente confessare che non sapeva niente neppure di sé abbassate le mani aveva sollevato la testa e guardava l'altare le candele della messa fumigavano ancora sottili fili di fumo salivano in alto verso la volta dell'abside dalla quale pendeva un grande Cristo in croce contorto come un ulivo gli occhi fissi sulle piaghe del Cristo si sentiva smarrito il pensiero di quanto fosse straordinaria la grazia ricevuta lo annichiliva lonta per non averla potuta riconoscere lo prostrava domine non sum dignus di solo una parola ma quante ne aveva già dette di parole che altro poteva chiedere al Signore non si sentiva neppure in diritto di pregare rimase a lungo immobile stordito sotto il Cristo che muto lo fissava dall'alto poi un poco alla volta un pensiero cominciò a farsi strada all'inizio più che come idea o proposito quel movimento interiore si manifestò sotto forma di sensazione la tensione dei nervi si stava sciogliendo il rilassamento delle fibre si trasmetteva all'anima ci volle tempo perché la vaga consolazione che ne scaturiva si coagulasse in un solo pensiero devo riparare posso riparare l'intuizione invece fu istantanea poteva riparare con la poesia lui era fatto così si agitava nel buio senza intravedare il più piccolo spiraglio e poi una improvvisa l'illuminazione rischiarava a giorno la strada da percorrere avrebbe riparato scrivendo un libro già lo vedeva completo in ogni sua parte avrebbe raccontato la storia di Beatrice e la storia delle poesie che aveva scritto per lei sarebbe stato il racconto dell'immenso privilegio che Dio gli aveva concesso lo avrebbe intitolata vita nova vita rinnovata dal vero amore le poesie per Beatrice adesso gli apparivano sotto una luce diversa non mentiva se stesso sapeva bene di aver fatto di quella donna un angelo del paradiso unicamente per stupire il mondo con una poesia nuova voleva distinguersi voleva che i suoi amici rimatori si sentissero vecchi sorpassati eppure adesso aveva come la sensazione che ciò che a lui allora sembrava solo una scelta di poetica rispondesse a un piano di cui non era consapevole percepiva che una potenza esterna lo aveva ispirato che un soffio creatore aveva fatto di lui il suo strumento si convinse che Dio lo aveva guidato sempre anche nell'errore piangeva di gioia si inghiozzando come un bambino appena perdonato con il cuore gonfio di gratitudine il Signore l'amava grazie ad Andrea Ferrari una domanda molto rapida a entrambi perché naturalmente Francesco Guccini è anche uno scrittore di notevole qualità di notevole peso l'opera narrativa di Sant'Agata in pratica è divisa in due grandi parti ci sono libri come papà non era comunista come voglio una vita come la mia come l'amore in sé che sono legati molto al tema della memoria anche alla dimensione dell'autobiografia in particolare papà non era comunista ma c'è un'altra parte della sua produzione il maestro dei Santi Pallidi che è del 2003 che ha vinto il super campiello questo che è in ballo per lo strega e il racconto a cui si riferiva un racconto più che un romanzo prima Marco il copista sono invece veri e propri romanzi storici Francesco Guccini per conto suo è autore di una trilogia autobiografica croniche pafaniche vacca d'un cane cittanova blues i tre luoghi della sua vita pavana modena e bologna poi autore di una serie di romanzi thriller ma direi thriller antropologici con Loriano Macchiavelli dove per esempio nella prima serie quella come investigatore un carabiniere Benedetto Santovito è un tema molto importante la resistenza i tempi della resistenza al nazifascismo ed è autore ultimamente di un piccolo capolavoro narrativo che ha avuto un successo straordinario anche di pubblico che è il dizionario delle cose perdute o meglio i due dizionari delle cose perdute ecco chiedo molto rapidamente a entrambi qual è come si equilibra come vive nella loro opera narrativa il rapporto fra la storia e la memoria mi sembra che siano due elementi per entrambi decisivi è difficile per me forse scrivere di cose che non ho vissuto e non ho visto e quindi trasferisco sulla carta sul computer quello che ho visto che mi viene da raccontare e naturalmente questo si mescola con la storia di serie B la storia non la storia ufficiale ma la storia quotidiana la storia di ciascuno di noi attraverso gli anni che ciascuno di noi ha visto e ha vissuto ecco questa è la spiegazione molto semplice quindi il ricordo serve a dare materiale narrativo materiale per raccontare delle vicende dei personaggi che ho visto che ho incontrato e che ho vissuto questo semplicemente la locomotiva la locomotiva non c'entra è una canzone la locomotiva è una narrazione anche quella ma viene da un libro la locomotiva di un certo come si chiamava pure non mi ricordo è un libro Bianconi credo si chiamasse 30 anni d'officina a me piace ogni tanto leggere storie di vita vissuta di questi che scrivono le proprie memorie e questo raccontava di questo episodio e questo episodio mi è piaciuto mi è affascinato anche perché poi alla sera con gli amici cantavamo canzoni anarchiche avevo amici che militavano in storie anarchiche eccetera parlando poi con il mio vicino di casa questo mi ha raccontato mi ha detto che guardi non era un caso questo qua era un anarchico tant'è vero perché è stato difeso da un socialista eccetera ho poi imparato che questo signore si chiamava Pietro Rigosi che la stazione era quella di Poggio Renatico Poggio Renatico poi è partito verso Bologna e adesso so di gente che vuole chiamare la piazza della stazione di Poggio Renatico Piazza Pietro Rigosi insomma quindi avrà un nome non so se ci riusciranno ma è una delle canzoni che partono da episodi e da personaggi veramente esistenti ecco altri sono di pura fantasia come Il vecchio il bambino o Autogrill invece questa è un personaggio che non ho conosciuto ma di cui ho sentito parlare sentito raccontare ma non solo Francesco Guccini ma credo che tutti scrivano di cose che hanno conosciuto e hanno visto sono amico molto stretto anche di alcuni scrittori quando leggo i loro romanzi non solo riconosco personaggi ma addirittura battute effettivamente pronunciate dialoghi che sono stati fatti e così via quindi quando uno dice invenzione è buona norma non crederci mai a queste invenzioni c'è da dire una cosa ma allora uno che fa un romanzo storico come dove ha visto dove ha vissuto ma anche lì il discorso sarebbe complesso nel caso mio in qualche modo io sia Petrarca che Dante li ho visti e ho vissuto con loro nasce da lì la cosa importante tuttavia io credo è che questo visto e vissuto non da chi non li ha vissuti insieme a te non venga riconosciuto cioè che uno abbia la capacità di oggettivare i suoi fantasmi e i suoi ricordi in qualcosa d'altro di non restare legato all'autobiografismo sono sempre più convinto che il grande narratore è colui che parla di sé parlando d'altri e non lasciando che gli altri capiscono che sta parlando di sé e viceversa sono sempre più convinto che il grande critico dovrebbe fare capire di più che anche facendo critica sta parlando di sé stesso posso aggiungere a questo una citazione di Jorge Luis Porches che dice io credo che ogni scrittore sia autobiografico e questo può essere detto in due modi sono stato nel posto tale il giorno tale o c'era un re che aveva tre figlie perché anche c'era un re che aveva tre figlie uno racconta sempre di sé stesso attraverso la propria esperienza attraverso come hai detto i propri fantasmi e quindi grosso modo ogni scrittore in qualche modo autobiografico hai qualche altra domanda ma sì una curiosità che non c'è proprio una mia curiosità ci sono dei figuranti nel tuo romanzo beh Guido Cavalcanti non è un figurante è un altro personaggio importante ma Lapo Gianni che la accompagna e ogni tanto riappare si nominano Cino da Pistoia si nominano Gianni Alfani è trascorrato Dino Frescobaldi forse perché era antipatico forse perché questi personaggi del dolce stile sono lì perché dovrebbero esserci come dolce stile Dante Ligieri eccetera o per caratterizzare in qualche modo quel periodo quell'epoca Dino Frescobaldi tira antipatico Dino Frescobaldi il nome è antipatico ma era antipatico a Dante perché era un po' più giovane forse parecchio più giovane ma soprattutto era un banchiere nero apparteneva al partito politico avverso quindi ecco perché non lo potevo mettere nella cerchia stretta di Dante e poi non sono lì Lapo Gianni perché l'ho chiamato perché l'ho chiamato Lapo Gianni questo perché doveva essere un amico e Lapo Gianni era un amico ma la ragione vera è un'altra è che a un certo punto io ho voluto citare Guidio vorrei che tu e Lapo e Dio mi serviva proprio nella narrazione citare questa cosa e allora guarda che ho corretto il nome si chiamava in un altro modo e dopo che ho citato Guidio vorrei che tu e Lapo e Dio gli ho cambiato nome l'ho chiamato Lapo Gianni ma di fatti pari che se non sbaglio che questo Lapo della poesia non si chiamasse Lapo pari si chiamasse Lippo qualcosa di sì ma queste sono ne possiamo discutere fino a domani di questo questa è un'ipotesi filologica cosiddetta filologica a volte la filologia è più fantasiosa della invenzione della creatività non c'è nessun motivo per cui questo Lapo debba essere Lippo c'è un altro personaggio che si chiamava Lippo Lippo Pasci dei Bardi e allora Pistoiese non uno dei Bardi di Firenze e allora cambieremo totalmente personaggio ma non si capisce perché c'è un poeta pistoiese però si chiamava Lippo se non sbaglio come Meo a bracciavacche che è un nome curiosissimo ma sono esistiti un'altra cronica e pafanica no 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 accidenti lo cito in pistoia se Pavana invece che in provincia di Pistoia fosse stata in provincia di Firenze mi saresti stato di grandissimo aiuto ma questo risulta dal Tigri e quindi esiste il Meo o Bartolomeo bracciavacche che è un nome bellissimo bracciavacche esistito con questo Lippo tant'è vero e che queste poesie poi musicate dal Casella come non so Mogol Battisti così Casella Dante Alighieri o Casella ma purtroppo non si sono mantenute queste queste canzoni non si sa come e cosa cantassero questi signori perché le cantavano e Beatrice che danza con questi passi questi piedini minuscoli eccetera avrà danzato una canzone di qualche poeta non so se di Dante o di altri con musica di Casella insomma avrà danzato una ballata una ballata perché poi quelle musicate erano le ballate volevo rivolgere un'ultima domanda a Marco Sant'Agata prima di chiudere il titolo è un titolo molto azzeccato ma è un titolo anche abbastanza rivoluzionario per una società maschilista come quella della Firenze bancaria banchiera fondata tutta sul fiorino e sulla prepotenza del fiorino della fine del 200 come donna innamorata le donne hanno un ruolo molto forte molto creativo Francesco ha già posto l'accento sul ruolo di Gemma Donati che appunto dalle biografie così corrive sembrava una specie di fantasma di matrimonio obbligato mentre invece è una donna molto importante per il paesaggio interiore di Dante stesso ma non è l'unica c'è anche la figura di Tana la sorella di Dante che diventa una specie di confidente di coscienza critica che è un personaggio molto riuscito e poi una curiosità che mi è venuta proprio anche in base a quest'ultima battuta di Francesco queste scene anche leggermente erotiche di Beatrice obice che balla mostrando il piedino che si traveste e in maschera a un certo punto Beatrice che nel tuo romanzo non è bellissima ma è molto affascinante secondo te come ha ricevuto in realtà in concreto questo amore straordinario che l'ha portata ad essere la donna per eccellenza con la lettera maiuscola della letteratura occidentale non solo di quella italiana io mi sono sempre posto un problema simile a quello che poni tu ma molto diverso ma il marito di Beatrice Simone Dei Bardi come ha ricevuto gli fai fare una figura talmente becce ma nella però se ci pensate è un problema perché queste donne erano tutte sposate Beatrice era sposata la selvaggia che abitava vicino a Pavana e quindi lui la conosce non era sposata però con Cino sì era sposata tanto il marito è a focaccia quindi figlio è finito ah beh Cino non con Cino non con Cino no non con Cino Cino è l'amante sì sì era sposata la Giovanna di Guido Cavalcanti era sposata e i mariti Laura 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 era sposata i mariti erano contenti che un giovanotto di nome Dante Alighieri Umbardi uno dei più ricchi di Firenze era contento che un giovanotto senza arte ne parte perché era un nulla facente come Dante Alighieri mettesse in piazza il suo amore per sua moglie è una domanda che io mi pongo da parecchio tempo a cui non riesco a dare risposta perché è un fenomeno veramente strano perché è localizzato a Firenze in realtà i poeti medievali hanno sempre cantato il loro amore per donne sposate per un motivo anche pratico non esistevano donne non sposate nel senso che le bambine venivano promesse a 7-8 anni rinchiuse in casa ce l'ho messo nel libro l'abbiamo sentito rinchiuse in casa fino al matrimonio quindi non c'erano donne libere in società in se stessa si sposa a 14 anni che è tardi non c'erano donne libere le uniche donne in società erano quelle sposate ma prima c'era il come dire l'obbligo della riservatezza i provenzali non facevano il nome usavano pseudonomi è a Firenze che per la prima volta i poeti parlano di queste donne con nome e cognome e dando anche a volte Dante lo fa all'indirizzo di casa ma se non esistevano donne se non sposate come diceva mia madre anche mangas anche per il suo badilas o viceversa anche per il suo badilas anche per il suo mangas che in parole povere vabbè non traduciamo le parole povere insomma comunque ma poi non c'era mai il marito di Beatrice era sempre in giro per affari per cose lei poverina dice nel tuo romanzo era a casa è un po' come la moglie poi di Dante perché Dante scrive poesie per Beatrice lei era a casa a badare i figli e quindi una vita abbastanza grama facevano questo perché naturalmente anche i poeti erano tutti sposati infatti non solo assomiglia un po' al fenomeno del cicisbeismo del settecento a qualcosa a qualcosa di analogo beh direi che possiamo concludere il nostro incontro Andrea Ferrari ha pronto un'altra lettura finale del di una pagina di come donna innamorata edito da Guanda appunto nel 2015 però l'occasione è troppo ghiotta per non fare una domanda fulminia a entrambi visto che si parla pure di Firenze ma Renzi sarebbe stato Guelfo Bianco o Guelfo Nero? Guelfo Rosa ha già risposto allora grazie a tutti grazie a Francesco Guccini grazie a Marco Sant'Agata soprattutto per averci donato come donna innamorata e l'ultima parola al libro attraverso la voce di Andrea Ferrari grazie a tutti era crollato tutto ma gli restava la commedia da quando aveva realmente concepito cosa fosse quel poema a cui lavorava da anni gli appariva l'unica roccaforte solida e potente in un mondo che andava in pezzi c'era voluta la morte no l'assassinio dell'imperatore perché lui lo capisse per due anni e più non ci aveva quasi messo mano aveva riservato tutte le sue energie all'impero ogni altra cosa passava in secondo piano rispetto a quella lotta che avrebbe cambiato il mondo eppure la sua sorte personale poi mentre partecipava nella pionera disperazione alle solenni esequie di Arrigo nel Duomo di Pisa era il settembre dell'anno prima all'improvviso ecco la luce si era messo a piangere senza ritegno i pochi compagni d'esilio che invece di darsi alla fuga erano rimasti a onorare l'imperatore lo guardavano con aria di compatimento non si aspettavano che uno come lui si lasciasse andare in quel modo non potevano sapere che lui piangeva di gioia non era la prima volta nella sua vita che una repentiva illuminazione squarciava le tenebre e gli svelava la strada del futuro era la prima volta però che lui aveva percepito con assoluta certezza che quella luce veniva dall'alto veniva da Dio la lotta non era finita toccava lui portare a compimento l'impresa di Arrigo a Mulazzo si era buttato sul poema con frenesia prima di partire per Verona voleva portare a termine il purgatorio la salita del monte era quasi alla fine stava per entrare nel paradiso terrestre quel viaggio nell'aldilà era più di una consolazione era la prova che la sua vita aveva un senso e uno scopo fosse di peso da lui né dell'uno né dell'altro avrebbe mai avuto consapevolezza la mente umana tutt'al più può intuire quanto siano intricate le vie del Signore ma senza la grazia non gliel'aveva rivelata non potrebbe mai comprendere a quale suprema razionalità quell'intrico risponda un dono sì ma più angoscioso di una condanna che ti colma espropriandoti quando aveva concepito l'idea di una visione viveva ancora a Firenze era stato eletto priore era il culmine della sua carriera politica voleva insegnare ai suoi concittadini a vivere in pace pochi mesi dopo i fiorentini avrebbero scatenato una guerra civile la sua era solo ambizione le avrebbe stupiti lo avrebbero acclamato maestro di Firenze il Brunetto Latini re di vivo si trovava proprio lì dove era adesso Esule in Val di Magra quando alcuni anni dopo aveva dato corpo a quell'idea e si era sprofondato all'inferno inferno purgatorio paradiso un viaggio verso la salvezza così proclamava sapendo bene però quale salvezza andasse cercando mentre raccontava i suoi incontri con le anime dannate voleva farsi perdonare canto dopo canto comunicava ai fiorentini che l'avevano bandito sono uno di voi sono ancora l'uomo di Campaldino disprezzo ancora i ghibellini fatemi ritornare tradiva le sue convinzioni i suoi compagni di sventura l'arrivo miracoloso del grande Arrigo gli aveva restituito la dignità ma Arrigo giaceva in un sarcofago dell'uomo di Pisa e lui solo come un cane batteva i denti in un castellaccio della lunigiana quale catena di miserie di illusione di viltà di sogni legava i pezzi di quel suo poema sì in paradiso ci sarebbe comunque arrivato ma come un pellegrino che camminando alla cieca per strade sconosciute casualmente raggiunge la meta incapace però di riferire quel percorso e di capire quale percorso egli abbia seguito e adesso la grazia divina sì aveva illuminato ogni tappa e connesso i singoli anelli in una catena gloriosa aveva deciso di non intitolarlo più commedia ma poema sacro nell'Eden finalmente avrebbe incontrato Beatrice grazie Andrea Ferrari ricordo a tutti che tanto Marco Sant'Agata quanto Francesco Guccini sono ben disponibili a firmare copie dei loro libri qui nel foyer grazie a tutti di nuovo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.